Area sicura. Agente, Benites ha analizzato l'attività dei Rikers e ha scoperto qualcosa. Forse gli uomini di Dragof smistavano la roba di Kinner dal molo 26. Una delle nostre pattuglie ha avvistato dei Rikers che portavano lì dei container. Non abbiamo abbastanza uomini per sgombrare il molo, ma quei rifornimenti non devono arrivare a Kinner. Procediamo così. Devi portare a termine il lavoro, a qualsiasi costo. Grazie. 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 Dispositivo elettronico portati. Non sono stato chiaro. Niente prediche, Kinner. Lo chiedo sul serio, perché ancora non avete consegnato. Lo capisci che spostare tutta l'operazione a sud richiede tempo, vero? Ti sembra che me ne freghi qualcosa dei vostri problemi? A me interessa solo una cosa. La consegna... I rifornimenti di Dragoff non devono arrivare a Kinner. Sempre che non gli siano già arrivati. Speriamo non sia troppo tardi. Dà un'occhiata in giro. Vedi cosa trovi. Non avete saputo? Che cosa? Hanno beccato Dragoff e la divisione ha fatto piazza pulita Wall Street. Almeno chiudiamo con questi rifornimenti. Merch, ho finito i colpi. Copritemi! Ricarico! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Agenti a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.